Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Continuiamo a parlare di software, continuiamo a parlare di software gratuiti, utili per chi lavora nel meraviglioso mondo della creazione dei contenuti multimediali. Nello scorso video abbiamo parlato di MediaInfo, software utilissimo se volete avere tutte le informazioni disponibili su un file multimediale come un video o un file audio. Quest'oggi parliamo di Handbrake, un software ancora gratuito e molto potente, utile per convertire i file. Per esempio avete un file in MPEG, MPEG 2, vecchio MPEG 2, volete convertirlo in un MPEG 4 con codec H.264? Questo è un software semplice da utilizzare e molto potente che permette di fare appunto questa operazione. Funziona sia con i file video, funziona anche con i file audio, quindi se avete un file audio di un formato e volete convertirlo in un altro formato potete farlo tranquillamente. Dicevo è un software gratuito quindi non dovete spendere abbonamenti, non dovete pagare nulla, a differenza per esempio di altri software come Adobe Media Encoder, abbiamo visto questo software fantastico nel corso introduttivo a Premiere Pro. La suite Adobe ha un costo annuale che va dai 300 ai 600-700 euro annui, il bello di Handbrake che invece è totalmente gratuito e multi piattaforma. Cosa vuol dire? Vuol dire che funziona sia con Windows, funziona con il Mac e funziona anche con alcuni sistemi operativi Linux come per esempio Ubuntu. Per scaricarlo basta andare, cliccare sul link che metterò in descrizione di questo video, handbrake.fr, questa è la home page ad oggi 2021, probabilmente cambierà ma il senso è questo, e cliccare sul bottone per fare il download. Notate come sia possibile cliccando su Other Platforms accedere ad altre piattaforme. Noi stiamo lavorando in Windows e quindi utilizziamo la versione per Windows, ma come potete vedere c'è la versione per Ubuntu eccetera eccetera. Dunque noi scarichiamo questo software e lanciamolo. come potete vedere l'interfaccia di Handbrake è di per sé molto semplice, è anche abbastanza intuitiva perché quello che dovete fare in realtà è già scritto, è già segnato, basta leggere e seguire la procedura. Il modo più semplice per importare un file è quello di fare un banalissimo drag and drop, vale a dire prendere un file video, come in questo caso sto facendo io, e trascinarlo in questo spazio sulla destra dell'applicazione dove appunto c'è scritto drop a file or folder here. Folder, sì perché potreste anche voler convertire tutti i file video presenti per esempio in una cartella, in un colpo solo, quindi è un software potente come vi dicevo. Trasciniamo il file, rilasciamo, il software analizza il file e subito ci permette di fare alcune scelte. Ripeto, non entrerò troppo nel dettaglio perché a volte alcune conoscenze tecniche di come funziona una compressione, un processo, un procedimento di encoding sono indispensabili, però ipotizzando che voi non sappiate assolutamente niente e abbiate voglia, non so, di convertire questo file in un normalissimo mp4, come potete vedere avete accesso ai preset, ok, che sono già configurati e che vi permettono di ignorare tutte quelle alchimie strane che permettono un video di essere encodato, compresso e poi distribuito su internet. Per esempio, vogliamo convertire questo video per il web, vedete che abbiamo già dei preset già abbastanza chiari nel loro nome, per esempio YouTube, HD e chiaramente in 4K piuttosto che in classico HD 1080 e vedete anche un numerino, ingrandisco per permettere a tutti di vedere, questo numerino indica il frame rate, in questo caso è un file P progressivo 60, vuol dire 60 fotograppi per secondo, oppure chiaramente potete personalizzare il livello di compressione, scegliamo un qualsiasi preset per iniziare, scegliamo un classico 720p, via, banalissimo, e automaticamente Handbrake configura tutte le impostazioni al posto vostro. Teoricamente potete fermarvi qui, ok, potete scegliere chiaramente la cartella in cui andare a salvare il file, riallargo per permettere a tutti di vedere, ecco qui, potete cliccare su Browse per andare sul vostro computer e scegliere una cartella e nominare ovviamente il file di output come preferite e quello che dovete fare se siete già soddisfatti così delle impostazioni e non volete preoccuparvi di altro è cliccare su Start Encode e automaticamente Handbrake inizierà la conversione. Se però siete un po' smanettoni e avete già un po' di esperienza con l'encoding di file e avete delle pretese un po' particolari, potete andare chiaramente a customizzare tutto. Per esempio, potreste andare a modificare le dimensioni. Il nostro preset di prima impostava una larghezza di 1280px per 720px, però noi potremmo volere fare questo video, non so, 1920x1080, il classico formato HD, ok? Questo bottoncino qui ci permette di mantenere, diciamo, bloccato l'aspect ratio, ok? Quindi il rapporto. Ancora, se volete potete andare ad applicare alcuni filtri, per esempio il, vediamo un attimino, il deinterlacciamento, ok? Se avete un video interlacciato, potreste avere la comodità di deinterlacciarlo e quindi aiutare, ecco, un video ad essere fruibile in maniera migliore su internet. Abbiamo chiaramente la possibilità di scegliere il videocodec, di default per internet va benissimo l'H.264, che è lo standard al momento, ma come potete vedere i codec che si possono utilizzare sono vari, tra cui il nuovo H.265, che ancora non tutti i dispositivi magari supportano, soprattutto quelli non aggiornati, ma che in futuro sarà lo standard. Potreste voler cambiare il frame rate, chiaramente impostate sempre, il mio consiglio, il constant bit rate, soprattutto se dovete poi lavorare ad un montaggio video, evitate, ecco, il frame rate variabile, perché può dar problemi se lavorate, per esempio, in Premiere, ma vedete che potete scegliere qualsiasi frame rate vogliate. Ripeto, sono impostazioni non obbligatorie, sono impostazioni utili per chi mastica un pochettino, di queste cose, per chi ha un po' di conoscenze avanzate. La qualità, ovviamente, è importantissima. Se passate con il mouse sopra al constant quality, vi viene spiegato il valore a cosa corrisponde. In particolar modo, ci viene detto che un valore più basso corrisponde a una maggiore qualità. Vediamo un attimino se è così. Sì, più o meno credo che sia così. Ecco, infatti, lower quality ha un valore più alto, vedete, una migliore qualità ha un valore chiaramente più basso. Attenzione a non fare, diciamo, i gradassi e a impostare questo valore subito al top, perché sì, è vero che il file peserà di più e quindi in teoria ci sono più informazioni dentro, ma c'è un limite oltre al quale i benefici sono minori, ecco, dei costi. E i costi, soprattutto se dovete condividere un file su internet, sono la grandezza del file. Quindi fate delle prove, ecco, se la qualità vi soddisfa già, ecco, ad una qualità standard, ad una via di mezzo, non spingete troppo, ok? Su internet bisogna restare leggeri. Dicevo, avete anche la possibilità, per esempio, di impostare le caratteristiche dell'audio. Se il vostro file, per esempio, ha più tracce audio in più lingue, Handbrake fa un ottimo lavoro anche nel generare dei file multitraccia, si dice, no? Avete presente quando vedete un film con più lingue. Ecco, Handbrake gestisce anche questa tipologia di file. E i sottotitoli. Se avete dei sottotitoli, potete embeddarli direttamente, stamparli direttamente dentro al vostro file video. C'è anche poi l'opzione per dividere tutto in capitoli, ma, diciamo, sono cose avanzate, ok? Su cui adesso non entriamo. Quello che voi dovete sapere, che è che una volta che avete scelto un preset ed eventualmente impostato le vostre preferenze, scelta la cartella di output, scelto il nome che volete dare al file, potete cliccare sul fantastico bottoncino verde Start Encode e Handbrake inizierà il processo di codifica per voi. Ok, lo fermo perché adesso non voglio convertire questo file. Dicevo che ovviamente c'è la possibilità anche di convertire un'intera cartella. Quindi se avete 100 file video da convertire, non so, da MPEG 2 a MPEG 4, Handbrake è un ottimo software perché fa tutto in automatico. Basta dare la cartella di input, la cartella di output, dare le impostazioni, lui poi pensa a fare il resto. Queste stesse cose le fa, per intenderci, anche un software come il Media Encoder di Adobe. Ripeto, la differenza è che Handbrake è totalmente gratuito e si basa sulla tecnologia FFMPEG, che adesso non andiamo ad approfondire. È una tecnologia di codifica molto utilizzata e anche molto potente. In genere la si usa da righe di comando, ma ripeto, non vado oltre. Sappiate che Handbrake è la risposta giusta se avete la necessità di convertire dei file da un formato a un altro e non avete proprio idea di come fare, soprattutto se non volete spendere troppi soldi per fare questa semplice operazione. Per il momento mi fermo qui, condividete questo video con i vostri amici, Facebook, YouTube, condividete su WhatsApp, dove volete, insomma, passate parola. Cercatemi ovviamente anche su Facebook, cercatemi su Instagram, sono Fabio Ambrosi e ovviamente mettete un like ed iscrivetevi a questo canale YouTube. Grazie, buon proseguimento, ciao! Grazie a tutti!